Una volta si diceva che per capire come è fatto una persona basta guardargli le scarpe, oggi potrebbe bastare chiamarla al telefono. La società israeliana Collab sta mettendo a punto un sistema che potrebbe svelare i segreti di chi fa e riceve telefonate. L'amministratore delegato, Oded Volowitz, fa la dimostrazione. Ok, ora sto ricevendo una chiamata da lei e quello che vedo prima di tutto è il suo nome, la sua foto e i nostri amici comuni in tutti i social network. Leggo le informazioni, per esempio, riguardo alla scuola di giornalismo che ha frequentato. Posso vedere tutti i siti web che parlano di lei. Inquietante? Volowitz fa notare che le informazioni sono già pubbliche, ciascuno di noi le mette volontariamente a disposizione, il passo in più è semplicemente quello di riunire i dati a portata di telefono. Big Brother ha a disposizione anche un altro sistema, Advanced Validation Solutions, è il nome di una tecnologia, anch'essa israeliana, che ora è in uso in alcuni paesi europei per individuare i truffatori. Ecco la ricostruzione di una vera chiamata nel corso della quale la voce dell'interlocutore viene monitorata per rilevare se sta dicendo la verità. L'Ior Koskas è l'amministratore delegato della Digilog, azienda che offre il servizio nel Regno Unito. Registriamo la voce di una persona quando sta dicendo la verità, ogni frase successiva viene poi analizzata alla luce di quel riferimento. In questo momento vengono monitorati i cambiamenti di frequenza che avvengono involontariamente nel momento in cui si dice una bugia. Il tutto è visualizzato in modo molto semplice su uno schermo. Questa tecnologia è già disponibile da un decennio, ma viene costantemente migliorata. Colapp è finora disponibile solo sui telefoni con sistema Android, in ogni caso, d'ora in poi, attenzione a quello che raccontate al telefono. Grazie per la visione!